Se anche tu vuoi rinnovare le tue immagini sui social e vuoi affidarti ad una professionista, ti consiglio fotografie per imprenditori, ornella pesenti e di sicuro non te ne pentirai. Ciao, sono David Sparcaro di Soluzioni Solari e oggi non voglio parlarti di indipendenza energetica come il mio solito, ma voglio fare una referenza su un magnifico lavoro che ha fatto una persona di cui ti parlerò breve. Avevo la necessità di cambiare un po' la mia immagine nelle mie comunicazioni, quindi nel mio blog, nel mio canale YouTube, in particolare stavo cercando una fotografia speciale da mettere nella copertina del libro che è prossimo di pubblicazione e lì ho avuto la fortuna di avere tra i miei contatti ornella pesenti di fotografie per imprenditori e quindi l'ho contattata per chiedere aiuto a lei. Non ti posso mostrare in questo video le fotografie che ne sono uscite, ma devo dirti che il risultato è stato fantastico perché ha saputo aiutarmi e consigliarmi nel trovare le posizioni migliori, nel trovare le angolazioni e la luce migliore per mettere in risalto quello che io avevo chiesto di far saltar fuori dalle fotografie. Che dire, sono contento, sono molto contento del risultato che ne è uscito e se anche tu hai necessità o hai bisogno di rinnovare la tua immagine e vuoi affidarti ad una professionista, fotografie per imprenditori, ornella pesenti e di sicuro non te ne pentirai.